E' un jet! Sì, certo. Capisco perfettamente. E sono terribilmente desolata. Cosa è successo? A quanto sembra, da oggi non sarò più la benvenuta all'aeroporto di Malibu. Dicono che abbia attirato l'attenzione di molti fan, paparazzi e sostenitori, causando dei pesanti ritardi ai voli. Come faremo a viaggiare per il mondo? Aspetta, tu non sapevi pilotare. Aspetta, io non sapevo pilotare! Avrò bisogno del mio jet privato. Scusate, non potreste leggere senza fare tutto quel baccano, eh? Scusa, Raquel. Avete capito tutto? Capito! Silenzio! Ottimo lavoro, ragazzi! Barbie, stai cercando di costruire qualcosa? E' un jet! E non hai neanche avuto bisogno di me. Questo è incredibile. Mi sento leggermente confuso. Beh, puoi sempre aiutarmi ad agganciare le componenti del muso alla fusoliera. Vado subito! Tirare indietro la barra del timone e schiacciare il pedale di comando dei flap. Barra di comando, barra di comando... Oh! Grazie, Chelsea! Mi sono dimenticata che io soffro di mal d'aria. Cosa desidera, signore? Che cosa avete? Abbiamo un doppio hamburger fra un toalicipolle, una fetta di pizza, carciofi e acciughe e una cremosa zuppa alle vongole. Con vongole extra! Sì, sì e sì! Fanno 47 dollari. Cosa? A quanto pare stiamo attraversando una lievissima turbolenza. Trovare gli indicatori di deviazione della rotta e tirare la barra di comando finché... Non è stato così difficile. Barbie Airlines vi ringrazia. Vi preghiamo di fare attenzione all'apertura delle cappelliere poiché alcuni oggetti possono essersi spostati durante il volo. Vogliamo ancora! Quel jet è un pericolo! Andrò a lamentarmi con l'amministrazione locale, col sindaco in persona! E ora sentiamo cosa intendi fare con quella mostruosità, con quella minaccia, con quel... Jet! Non riesco a stare senza la velocità! Dopo. Dopo! Andrò. Sì. Sì. Sì!